E' un di Cristina a tutto campo quello che ieri ha presentato la nuova segreteria Green del PD. Il segretario spiazza tutti sin dall'inizio, tagliando corto sulle possibilità di nuovi ingressi nel gruppo consigliare DEM, esclusi almeno fino a gennaio, e sul suo futuro alla guida del partito in città. A febbraio non sarò più il segretario cittadino, dice alla stampa. Per lui probabilmente la guida del partito a livello provinciale è forse una chance tra tre anni per uno scranno alla regione. Ma oggi la missione di Cristina è quella di dare un volto nuovo al partito, tagliando di netto il cordone umbilicale con il passato. Avere coinvolto donne, giovani, studenti, imprenditori, professionisti, all'interno di quello che è la nuova fase del partito democratico, che poi è stato il cruccio che mi sono dato fin dal primo secondo e ci siamo dati, penso che sia una grande soddisfazione. Qual è la scommessa oggi? Essere il perno anche di una nuova visione della politica. La politica è cambiata. Uno dei primi restyling è quello relativo al tesseramento. Per troppi anni terra di conquista e di scontro di vari capi corrente. Da quest'anno si cambia e sulla scia dei nuovi alleati nazionali del Movimento 5 Stelle e del loro Rousseau, i Dem lanciano il tesseramento con l'app per sfidare gli avversari sul web, il terreno dei giovani di chi è sempre incollato al telefonino. Senza però dimenticare le piazze. Le piazze rappresenteranno per noi un punto importante, lo abbiamo fatto e anche lì tu sei testimone già ai tempi del referendum, non è una novità per quanto riguarda la mia gestione. Bisogna ritornare alle piazze, avere il coraggio di parlare con le persone. Il circolo lo abbiamo riempito ma non basta. Noi dobbiamo riempire il rapporto con quelli che sono i problemi della gente, tornare a parlare con le persone. Per questo già nei prossimi mesi e la prossima settimana saremo con i gazebi in piazza a parlare con le persone su quelle che sono le questioni vere. Obiettivo principale è il rilancio del territorio. Per questo i Dem hanno ufficializzato che il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, sarà in città a breve. Gela deve essere il simbolo del riscatto del mezzogiorno. Ieri c'è un passo in avanti perché c'è una nuova visione industriale che riparte, ma noi chiederemo al ministero al mezzogiorno e a questo governo di rimettere al centro quelli che possono essere le potenzialità del mezzogiorno. Per quanto riguarda Gela le potenzialità sono l'ambiente, le potenzialità sono la bellezza dei beni culturali, le potenzialità sono una grande storia, ma c'è anche una potenzialità di decenni di industria che deve essere più rispettosa dell'ambiente e deve garantire posti di lavoro. Intanto spazio e volti nuovi della segreteria, freschi e giovani, ma con un bagaglio di esperienze e di idee. Questo era il momento giusto per fare una scelta che fosse quella che più sentivo rappresentativa della mia storia personale. Il tesseramento avviene per questo motivo, con la voglia e la volontà di mettersi in gioco, con l'esperienza fatta, perché ciascuno di noi ha una storia personale, cercando di metterla a frutto nella maniera più positiva possibile per offrire un servizio alla città. Sono consapevole che per anni si è dato un segnale di divisione. Il Partito Democratico è stato visto come il Partito dei Litigi, come il Partito degli Scontri Interni. Oggi mi pare che questo è cambiato, sia a livello nazionale sia a livello locale. Noi da qui vogliamo ripartire, vogliamo ripartire da un gruppo coeso, da nuove forze che si mettono in campo e vogliamo cercare di creare non solo un laboratorio di idee, ma io voglio definirlo più un laboratorio di progetti.